Il taglio degli alberi lungo corso Garibaldi, iniziato di buon mattino, è stato subito bloccato, ma non a causa delle polemiche che si sono scatenate sui social network, bensì per salvaguardare gli uccelli, in questo periodo alle prese con la nidificazione. L'intervento è però solo rimandato, ha precisato l'assessore comunale di Sernia, Domenico Chiacchiari, durante una conferenza stampa convocata a Palazzo San Francesco, alla quale hanno partecipato anche alcuni cittadini per esprimere tutta la loro contrarietà all'abbattimento di quelle piante. Ma l'assessore intende andare avanti, non solo sul corso principale della città, ma anche in altre zone con problematiche analoghe e dove la sicurezza dei cittadini è messa a rischio. In ogni caso, ha assicurato, gli alberi tagliati saranno sostituiti. Saranno sostituite tutte le piante e saranno reimpiantate anche lì dove già mancavano, quindi saranno tagliati nove alberi e ne saranno reimpiantati 24. Oltre a quello ci saranno il posizionamento di nuove panchine e di nuove fiorieri, quindi riguarderà tutto il corso Garibaldi dopo le ferrovie e sistemati poi con fiori o piante che poi decideremo di impiantare. Però, ripeto, è necessaria una sistemazione dell'intera città. La stessa cosa abbiamo fatto per via Umbria. La città è stata abbandonata per tanti anni. Nessuno vuole tagliare e non reimpiantare. Noi tagliamo e reimpiantiamo. Già ho detto prima, il parco che nascerà sopra la stazione avrà quasi un centinaio di alberi su quella zona là. Reimpiantiamo 24 alberi sul corso, quindi man mano che noi sistemiamo tagliando, reimpiantiamo. Purtroppo ci sono degli alberi che sono pericolosi. Non possiamo mettere in pericolo la vita dei nostri concittadini, ad esempio la villa comunale, assolutamente dovrà essere sistemata anche per quanto riguarda il verde. Nei prossimi giorni intanto prenderanno il via anche i lavori per migliorare la viabilità cittadina. Settimana prossima inizieranno gli interventi per la segnaletica orizzontale verticale, inizieranno con la segnaletica orizzontale che partirà dalla caserma dei Carabinieri, andrà verso San Lazzaro, sarà sistemato tutto il quartiere San Lazzaro, dopodiché si ritorna nella città.